Buongiorno, buongiorno a tutti, mi rivolgo a tutti i giornalisti, questo è un video di denuncia, attenzione, è un video fatto che sto per raccontarvi, è un fatto senza precedente, è un fatto orribile, di malasanità ignobila, abbiamo le prove, tutta la documentazione che serve, dobbiamo far esplodere questa bomba con i media, con la stampa, le tv, l'agonia mediatica ci vuole, un fatto di cronaca nera orribile, di malasanità, questo video è rivolto a tutti i giornalisti, per contattarci 347 35 69 077, ripeto 347 35 69 077, o 3680 29 155, anche per strisciare la notizia, questo video è rivolto a tutti i giornalisti, i numeri che li avete 347 35 69 077, 3680 29 155, norma ottiero, chiedere norma ottiero e l'usario scolpiniti, abbiamo le prove, tutta la documentazione che serve, abbiamo le prove di questo fatto che sto per raccontarvi, senza precedenti, di cronaca nera, allora abbiamo le prove, sto per raccontarvi la storia, a Roma ci sono anziani interdetti con perizze false, forzamente interdetti con perizze false, sono milionari questi vecchietti, vengono interdetti dai figli per rubare loro case soldi, vengono interdetti con perizze false, rinchiusi a lunga decenza in cliniche lagare, tipo una clinica Donorione a Roma, che dei preti sono tutti corrotti, con presso il direttore sanitario, badanti e tutto il resto, tutti corrotti, si coprono a vicenza, tutti agganciati, abbiamo le prove di tutto questo, mi rivolgo a tutti i giornalisti che stanno sentendo in questo momento la storia, quindi vengono interdetti con perizze false in questa clinica Lager, interdetti con perizze false in questa clinica Lager e vengono rinchiusi a lunga decenza, ridotti come larghe, danno loro dei farmaci orribili per ridurli come larghe, con la scusa che li aiutano in realtà lo fanno per distruggere, li lasciano morire per rubare loro case soldi, fanno perizze false, li riducono come larghe, danno loro farmaci per non farli parlare, se no si ribellano, li lasciano morire così per rubare loro case soldi, questi familiari avidi, i figli di questi vecchietti, sono agganciati con giudici, medici, avvocati, tutti i corrotti della Roma Bene e non solo, a Roma c'è un sistema giuridico tutto corrotto, giudici, medici, avvocati che si coprono a vicenza e quindi non esce fuori la notizia, perché se esce fuori la notizia andrebbe a rincare la vita, quindi dobbiamo fare esplodere, questi hanno paure cattivi, quindi dobbiamo fare esplodere la bomba, dare le notizie alla stampa, le tv, si intagano e così insomma vanno in galera dove i merito hanno di andare, perché molti vecchietti sono morti, molti stanno morento, inizia avviano tutte le denunce che facciamo da anni, sono agganciati i giudici, medici, avvocati con i familiari avidi e viceversa, quindi c'è un sistema giuridico tutto corrotto, inizia avviano le denunce che facciamo da anni, perché se esce fuori andrebbero in carriera a vita. C'è una donna anziana, Anna Ioli Raganelli, che è la figlia buona di questa donna anziana, no, la figlia buona, Norma Utiero, sta lottando per appunto fare giustizia, perché la madre è stata uccisa in questo modo, la figlia cattiva, Gabriella, ha interdetto la madre con prezzi e false, è inchiusa a lunga decenza, ridotta come una larva, lasciata morire per rubare a lei case soldi, mentre la figlia buona, come ho detto prima, Norma Utiero, che è una santa donna, perché sta lottanto da anni, in una maniera veramente, veramente una donna fantastica, fortissima, ma ha bisogno della, ha bisogno della, delle tv, dei giornali, di tutto quello, di voi giornalisti, abbiamo le prove e tutta la documentazione, perché facciamo, facciamo denunce, ma ne sappiano tutte, quindi è un fatto veramente orribile, senza precedenti, abbiamo bisogno di voi di fare esplorere questa bomba, è una donna fortissima, quindi aiutate, Norma Utiero, la figlia buona di questa donna anziana, ed è contattatela, è urgentissima, abbiamo le prove, 347 35 69 077, fermiamo questi cattivi, è una tragedia senza precedenti, immedesimatevi nella storia, giornalisti, abbiamo le prove di quello che ho detto, moltissimi vecchietti sono morti in questo modo orribili, è una clinica Lager, vengono uccisi per rubare loro case soldi, la figlia buona di questa donna anziana, Norma Utiero, contattatela, 347 35 69 077, è urgentissima, abbiamo le prove, tutta la documentazione che serve, facciamo giustizia, chiamate Norma Utiero al numero che vi ho dato, 366 80 29 155 347 35 69 077, è urgentissima, abbiamo le prove, chiamate Norma Utiero.